La fotografia dell'Italia si arrangiano come meglio possono tutti, politici, solo per soldi. Ci siamo resi conto che l'incompiuto siciliano è uno stile architettonico, probabilmente il più importante stile architettonico italiano dal dopoguerra ad oggi. La casa sul ponte esiste da trentina d'anni. L'ha chiuso mio papà perché arrivavano con le macchine per buttarsi sotto e allora abbiamo messo un po' di rete, un po' di cose, poi mia mamma ha fatto portare un po' di terra e ci ha messo le piante. Eccà! 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 Eccà!